Conferenza stampa a congiunta dei rettori dell'Università degli Studi del Molise, Cannata e Palmieri, il primo uscente, il secondo da poco eletto, per illustrare l'offerta formativa dell'Ateneo Molisano per l'anno accademico 2013-2014. Confermati tutti i corsi, confermata anche l'intenzione di migliorare i servizi offerti agli studenti. Il rettore uscente, Giovanni Cannata, soddisfatto di quello realizzato fin qui. Si parla di offerta formativa e si parla anche dell'occasione di varare il nuovo slogan dell'Università che ci accompagnerà per il prossimo anno. Allora io partirei proprio dallo slogan, che è questo, come potete vedere. Ed è un segno molto chiaro di comunicazione. Ci piace, a noi ci piace, nel senso che ci abbiamo fatto una scommessa su questa opportunità. Speriamo ovviamente che l'offerta formativa, come dire, continui a soddisfare i bisogni degli studenti molisani. Mi piace sottolineare un dato importante. Siamo riusciti per quest'anno, nonostante tutte le difficoltà di finanziamento, a mantenere l'offerta formativa. Naturalmente, perché questo possa continuare nel futuro, occorre accanto al sostegno del Governo nazionale, il sostegno deciso e convinto delle realtà regionali. Da questo punto di vista esistono dei progetti già presentati. Noi ci auguriamo ovviamente che la Regione voglia accompagnare questo percorso che abbiamo individuato, già da molto tempo. Gian Maria Palmieri guarda il futuro con ottimismo, malgrado le difficoltà che il Paese e il Molise stanno attraversando. Il futuro è un futuro, mi auguro, luminoso malgrado le difficoltà che l'Università italiana attraversa in questa fase. La conferma dell'offerta formativa nostra è un traguardo e anche un punto di partenza ulteriore perché noi non siamo immobili, noi siamo un Ateneo sensibile alle esigenze degli studenti, alle esigenze del territorio, alle esigenze del futuro. Io penso a un'Università dei Studi del Molise, qualcuno ha detto per il Molise, sono d'accordo, ma Università dei Studi per il Molise significa estendere i nostri orizzonti formativi e culturali anche oltre il Molise, verso l'Europa. I nostri giovani laureati devono essere in grado di competere non solo qui, in Italia, in Europa, nel mondo. E noi lavoriamo in questa direzione. E noi lavoriamo in questa direzione.